Al Breda si sfidano Pro Sesto e Pro Patria hanno bisogno di vincere per sperare di allungare la loro stagione ma non dipendono solo da se stesse. La squadra di Angelotti può ancora qualificarsi ai play-out ma deve guadagnare punti sulla quinta ultima su una tra Pergolettese e Arzignano. La Pro Patria è salva matematicamente dallo scorso turno nonostante la sconfitta interna contro la Virtus Verona ha ancora qualche piccola chance di andare ai play-off. La squadra di Colombo che decide di partire con i gemelli Renaud sulle corsie e il tridente davanti con Castelli insieme a Citterio e Curatolo. Angelotti ne cambia sette rispetto alla formazione che ha perso a Caravaggio. La prima chance è per la Pro Sesto con Saporetti che libera l'area di rigore. Il cross di Florio, il colpo di testa di Sala, l'indecisione tra Guillaume Renaud e Rovida che non esce, palla che finisce fuori ma di poco. Ci prova a tocci col diagonale, respinge ancora Rovida, arriva Florio per il tap-in ma non riesce a inquadrare la porta della Pro Patria alla metà del primo tempo. Si fa vedere la squadra Bustocca con il destro da fuori di Citterio che però finisce alto. Partita molto incastrata, equilibrata nel primo tempo. Riccardo Colombo prova a dare motivazioni ai suoi Cipens, Angelotti che ha ridato vita alla Pro Sesto da quando è arrivato a fine febbraio. L'episodio che indirizza la partita all'inizio del secondo tempo. Elion Toci messo giù dopo essere sgusciato a Saporetti dall'uscita in ritardo di Rovida come a Legnago. Calcio di rigore guadagnato dall'attaccante albanese e trasformato da Giuseppe Fornito che spiazza Rovida e ridà speranza alla Pro Sesto che deve assolutamente vincere per poi ascoltare le notizie che arrivano dagli altri campi. Ancora decisivo Toci che ha partecipato agli ultimi sette gol della Pro Sesto. Quattro li ha segnati lui, si è guadagnato due rigori e ha fatto un assist. C'è la reazione della Pro Patria che pareggia pochi minuti dopo con quello che sarebbe il gol dell'ex ma è in fuorigioco. Andrea Moretti sulla torre di Erwin Basci. Si rimane quindi sull'1-0 che la Pro Sesto prova ad allargare con Christoffersen entrato nel secondo tempo. Prende il palo e poi Maurizzi si vede respingere la conclusione da Christoffer Renault sulla linea. Il tentativo da fuori è del gemello Guillaume che impegna Bagheria. Parata robusta con il tuffo sulla destra. Ci prova Maurizzi da lontano. Trova una deviazione, palla in calcio d'angolo. Da fuori ci prova anche Ghioldi col Mancino a replicare il gol segnato una settimana fa contro la Virtus Verona. L'ultima chance della partita se la costruisce il neo entrato Bussaglia che però non sorprende. Rovida la vittoria della pergolettese a Gorgonzola. Sancisce la retrocessione della Pro Sesto che saluta la Serie C dopo quattro stagioni. Nonostante i 16 punti in 10 partite da gestione, Angellotti la Pro Patria finisce dodicesima esattamente come l'anno scorso.